Si intitola Antropocene, l'epoca umana, e prende il nome dal film documentario dedicato alle rovinose conseguenze dei cambiamenti climatici causati dall'uomo sul pianeta Terra. È il convegno di scena venerdì prossimo a Perugia, alla Sala dei Notari, indetto dalla Fondazione Carlo Lorenzini, di cui fa parte anche il professionista eugubino Franco Giacometti. La Fondazione è un ente che vuole ricordare questa persona che per molti di noi è stata molto importante e lo scopo è di tenere alti i valori che lui voleva divulgare, che era un po' l'amore per lo studio e per la conoscenza. Quindi i suoi valori culturali e umani noi dell'Associazione li abbiamo voluti ricordare, e li ricordiamo ogni anno con dei eventi culturali premi sotto forma di bolsi di studio. E venerdì alle 15.30 alla Sala dei Notari saranno autorevoli i relatori che parleranno sotto diversi punti di vista del dramma ambientale che sta gradualmente sgretolando la stabilità del nostro pianeta, tema oggetto del film Antropocene. In un primo momento verranno spiegati i bandi per assegnare i premi, poi si inizierà questo convegno, questo momento di riflessione culturale guidato da Marco Merola, che è un giornalista scientifico, il dottor Merola, divulgatore, che ha costruito anche un web doc che si occupa di adattamento ai cambiamenti climatici. Questa riflessione che parte dalla parte culturale in cui Papa Francesco nell'enciclica affronta il tema delle radici umane, antropologiche, dei cambiamenti climatici, lì questo tema verrà destrutturato e riaffrontato anche attraverso la presenza della dottoressa Chiara Lombardi, che è esperta di ambienti marini, luoghi in cui i cambiamenti climatici stanno creando forti turbamenti. Tra i relatori del convegno anche Antonio Brunori, dottore forestale e segretario generale dell'ENTE per la certificazione del legno, e soprattutto Don Antonio Picchiarelli, teologo della diocesi di Assisi, laureato in ingegneria informatica e autore di studi sulla cosiddetta algoretica, l'identità morale degli algoritmi, al termine la proiezione della pellicola Antropocene. Che cos'è Antropocene? Antropocene è una definizione che è nata scherzosamente da un primo nome della chimica qualche anno fa, in cui dice occorre riflettere se siamo usciti dall'oleocene e siamo entrati nell'antropocene, che è l'epoca nella quale l'uomo, che non è più abitatore di questa terra, ma sta trasformando il pianeta con le sue azioni umane.